la coscienza va formata come mostra soprattutto il concetto biblico di cuore che va purificato ed educato secondo la bibbia in maniera simile ad ogni altra realtà della persona la coscienza non raggiunge la sua maturità semplicemente da se stessa essa ha bisogno di essere risvegliata e formata quanto ai riferimenti etici quanto al valore degli atti quanta la conseguenza delle decisioni questo lavoro formativo della coscienza è una delle sfide fondamentali dell'educazione ma continua anche lungo tutta la vita umana la coscienza perciò si forma e matura mano a mano che cresce la capacità di una persona di trarre insegnamento dall'esperienza imparare da ciò che vive è infatti chiaro che le situazioni concrete sono sempre più complesse di quello che noi possiamo prevedere e quindi vivere ci forma ci educa a decidere a valutare ad agire secondo una coscienza sempre più matura non è semplice affrontare situazioni complesse questo come ogni altra realtà formativa ci prepara a comprendere e la coscienza si forma nell'ascolto della parola di dio nel confronto con la vita nel dialogo con persone sagge tutti elementi significativi per formare una buona coscienza cioè la socienza a a